Spaccato dagli anni 60, 70, 80, come mai vanno ancora di moda così tanto? In effetti allora gli autori scrivevano canzoni che dovevano in qualche maniera sfidare il tempo e l'altra ragione secondo me più grave è che non c'è granché niente di nuovo e allora bisogna pescare nel passato. Michele, grande cantante appunto dagli anni 60 in poi, cosa consiglia ai giovani che si cimentano, iniziano a cimentarsi nel mondo della musica? E' di avere molta pazienza, molta determinazione, è un lavoro molto difficile, così in televisione può sembrare che qualche volta uno in tre minuti fa successo, però quello non ti risolve la vita, poi sparisce. Se vuoi vivere di questo mestiere devi avere delle basi molto forti, devi essere caparbio, molto motivato, perché se no è meglio fare un altro mestiere.